Siamo lasciati nella precedente occasione sottolineando come il pensiero cinese del processo in che modo sia contrario opposto alla tradizione diciamo ebraico cristiana della creazione e questo anche perché la creazione implica una distinzione di piani fra un soggetto creatore che coincide con l'eterno con la perfezione con la dimensione spirituale o immateriale e dall'altra parte l'oggetto quello che ne avrebbe chiamato il mondo sensibile la realtà materiale e corruttibile nel pensiero del processo invece si mettono all'opera in modo congiunto dimensione l'invisibile e il cielo lo yang la forza che pervade e diffonde e poi l'opacità della materialità concreta la terra in che accoglie ma in cina questo non significa un dualismo cioè una separazione una distinzione netta di piani c'è una dualità di forze interagente ma non qualismo che non vuol dire che per la tradizione confuciana e poi anche per i letterati che ad essa si ispireranno non ci sia una dimensione di trascendenza però l'invisibile non esiste separato dal visibile perché come abbiamo visto la volta scorsa l'invisibile corrisponde al piano del latente cioè di ciò che ancora non si è manifestato ma che che modo è già implicito in ciò che appunto è palese nella nostra tradizione segnata profondamente dall'idealismo platonico il mondo visibile o sensibile ha finito per tradursi in illusione in apparenza il tema che già emerge nel mito platonico della caverna che per alcuni versi ricompare in parte della tradizione cristiana che ritroviamo ad esempio in schopenhauer e in qualche modo nella nostra tradizione l'invisibile l'aldilà è ritenuto la vera realtà ma nella tradizione cinese il cielo non è il divino non è un al di là non è un mondo distinto da quello terreno c'è stata una tradizione antica precedente a confucio in cui si parlava di un signore dell'alto da cui avrebbe potuto svilupparsi una immagine in parte confucio congruente con la nostra del dio monoteistico in realtà poi questa immagine progressivamente come dire si è dissolta l'idea di un dio non ha fatto pesa quella tradizione culturale perché appunto spiegavamo la volta scorsa non c'era bisogno di introdurlo per spiegare lo svolgersi delle cose il cielo è la dimensione di efficienza invisibile è la dimensione di coerenza regolatrice ma si manifesta sempre in correlazione con la terra il cielo raffigura la perseveranza lo sforzo continuo ad andare avanti la terra invece è la disponibilità a conformarsi ed accogliere c'è una gerarchia in questa dualità nel senso che il primo il cielo il maschile lo yang in qualche modo svolge un ruolo direttivo è la dimensione spirituale del processo che incita e regola allo stesso tempo mentre la seconda dimensione la terra in e femminile è il piano della realizzazione concreta e materiale ma quello che conta è che da questa correlazione appunto si sviluppi il processo e il processo è la norma quello che viene chiamato anche il mandato del cielo che è già iscritto nella natura e anche nella natura dell'uomo l'unica regola morale avremo modo di vederlo come si afferma in un testo più tardo rispetto di scritti confuciani cioè il mencio l'unica norma per l'uomo è portare a compimento la propria natura cioè realizzare quelle inclinazioni positive che prolungano dentro di noi il buon andamento del processo cant filosofo tedesco sul finire del 1700 aveva scritto due cose riempiono il nostro animo di ammirazione di reverenza da un lato il cielo stellato sopra di me dall'altro la legge morale dentro di me ma in kant queste due cose in un certo senso si oppongono il cielo stellato rimanda alle orbite regolari della scienza newtoniana alle leggi qualche modo deterministiche che reggono la natura mentre l'altro ambito quello appunto della norma della legge morale dentro di me è il campo della libertà dell'intelligenza esclusivamente umana appunto in contrasto con la natura mentre nella tradizione confuciana questa distinzione diciamo tra una cosmologia ed un'etica non compare lo osserveranno anche i missionari cristiani come vi raccontavo che più o meno dalla metà del 1500 giungono in cina i cinesi non distinguono ciò che la tradizione della filosofia moderna proprio nel 600 ha sviluppato cioè quella distinzione tra una sostanza spirituale l'io come dice direbbe cartesio e da un lato una sostanza materiale e anzi per la tradizione confuciana non c'è né modo né bisogno di sfuggire alla realtà materiale non c'è condanna dei legami con il mondo sensibile questo emergerà più avanti nella tradizione del buddismo ma il buddismo arriva dall'india che in qualche modo è già occidente rispetto alla tradizione originale della cina per il confuciano non bisogna separarsi dal processo dal corso operativo della realtà è nel processo che tutti i possibili sono già iscritti e a questo processo bisogna adeguarsi ed il processo stesso nel suo fondo di latenza costituisce il vuoto questo vuoto però non è il nulla tema che emergerà spesso nella tradizione filosofica dell'occidente non essere ma appunto è quel fondo del processo in cui le cose non si sono ancora realizzate e in cui da cui emergeranno e in cui poi saranno riassorbite è un tema che svilupperà ad esempio un altro dei testi che ne parlerò meglio nella prossima occasione della tradizione taoista cioè il laozzi dove si dice che è il vuoto al centro della sale che permette alla ruota di girare è il vuoto dentro il vaso che gli permette di contenere e l'ideale del saggio è appunto quello di fare il vuoto in se stesso perché questo indica la totale disponibilità la piena adesione a quel carattere impersonale del processo a cui appunto bisogna adeguarsi qui noi scorgiamo è un che ritroveremo quello scarto tra diciamo la filosofia dell'occidente e la saggezza della cina mentre il filosofo in qualche modo aspira alla conoscenza all'amore per il sapere aspira a sviluppare una prospettiva che si distacchi anche la realtà immediata invece per la tradizione del saggio si tratta appunto semplicemente di adeguarsi di esprimere questa sorta di radicale solidarietà che si manifesta nel processo stesso e ciò che meglio manifesta questa dimensione di latenza che nello stesso tempo è ciò che vivifica il processo è l'immagine del vento il vento appunto è invisibile è inafferrabile e però anima tutto il paesaggio si rivela nell'ondeggiare dell'erba e della foglia è un tema che ritroveremo anche in ambito artistico dove il ruolo del vuoto sarà espresso soprattutto dal bianco del disegno dunque accanto al vuoto come in esistenza in senso metafisico che troviamo nella nostra tradizione religiosa e filosofica e che è presente anche nel buddismo che poi ripeto la cina recupererà ma dall'india c'è poi invece nella tradizione cinese il vuoto funzionale su cui si sofferma soprattutto quel testo di cui vi parlavo il laozzi questo vuoto funzionale è lo sfondo latente delle cose così come potremmo parlare dello sfondo di un quadro o del silenzio che fa da sfondo ai suoni che da esso emergono ed è il vuoto a mantenere il reale in corso cioè a tenerlo appunto costantemente in vita la volta scorsa parlavamo di questa figura van fusi questo letterato confuciano che vive nei primi decenni del 1600 e che vive un periodo difficile della storia della cina crolla la dinastia ming nel 1644 pechino cade sotto i colpi degli invasori manchu l'imperatore si impicca ecco van fusi che esprime bene che cos'è un letterato e qual è la prospettiva a cui si richiama van fusi si rifugia sulle montagne rifiuta di portare la treccia che era il simbolo della sottomissione che veniva imposta ai letterati di corti rifiuta però anche di farsi monaco entro una comunità buddista dove si potrebbe vivere serenamente grazie alle elemosine dei fedeli perché van fusi come dire si sente lontano dalle prospettive del buddismo in cui la vita è descritta come un'illusione in cui emerge quel disprezzo del mondo terreno che è proprio anche della tradizione cristiana soprattutto dei primi secoli noi contentus mundi il buddismo nasce da un'aspirazione individuale ad evitare la sofferenza mentre il confucianesimo esprime fin dall'origine un senso di solidarietà con gli altri uomini non aspira qualche modo al distacco dalle relazioni totali il buddismo come sappiamo aspira ad una totale liberazione dal ciclo delle esistenze fino a giungere al nirvana nel buddismo c'è quella separazione netta tra il mondo sensibile terreno e l'invisibile cosa che invece non appartiene alla tradizione confuciana già un paio di secoli dopo confucio tra il quarto e il terzo secolo si era sviluppata dal confucianesimo alla tradizione del taoismo che in qualche modo trova espressione proprio nel laozzi e laozzi sarebbe appunto la figura che promuove questa dottrina ecco qui si dice che appunto il compito del saggio è di seguire la via il tao e quindi questo non vuol dire disprezzare ad esempio la dimensione sensibile e corporea i buddhisti magari direbbero che i sensi e il corpo sono di cattivo karma invece per i confuciani anche nelle azioni più umili si manifesta la natura celeste dell'uomo ad esempio l'importanza che viene attribuita alla pietà filiale al culto degli avi si spiega con questo senso forte della continuità materiale per cui il rispetto dovuto ai genitori fa di loro in qualche modo gli intermediari attraverso i quali ci accostiamo anche alle virtù del cielo attraverso il quale attraverso il quale attraverso il quale attraverso il quale entriamo in contatto anche con il principio vitale che presiede anche alle generazioni in un certo senso il padre e la madre proseguono l'opera del cielo e della terra e quindi la pietà verso i genitori è il fondamento della morale grazie al quale entriamo in relazione con il fondo nascosto della realtà e dunque il saggio ha questo compito potremmo dire quello di aderire di conformarsi al processo del mondo quel processo scandito appunto dalla correlazione di opposti il bene sta appunto nel cooperare allo svolgimento del processo sta nel favorirne la corretta evoluzione sta nell'aiutare gli esseri a pervenire al pieno compimento di sé il male invece in questa prospettiva che è anche morale sta nell'attaccamento nell'immobilizzazione nell'assumere un orientamento predeterminato e quindi nel cadere nella parzialità il saggio invece è colui che evolve incessantemente non è mai parziale perché appunto deve mantenersi disponibile a seguire il corso del mondo potremmo dire in tal senso e avremo modo di vederne anche i risvolti in senso lato politici potremmo dire in tal senso che il saggio confuciano è una sorta di opportunista in senso positivo cioè cerca di mantenere in sé tutte le virtù allo stadio latente le manifesta a seconda delle circostanze e si mantiene aperto proprio perché la situazione può modificarsi e il saggio come abbiamo visto anche nell'occasione precedente è colui che magari anche ricorrendo all'I Ching, al libro delle mutazioni sa cogliere appunto il processo nei suoi primi inizi e dai suoi primi indizi in tal senso il pensiero confuciano notava François Julien in quel libro che vi ho mostrato la volta scorsa cioè processo o creazione François Julien diceva accosta il confucianesimo al nostro stoicismo una di quelle correnti filosofiche ellenistiche sorte attorno al 300 avanti Cristo e nello stoicismo a differenza di Platone e in parte anche di Aristotele il divenire del mondo sensibile, il mutamento non sono considerati come dire indizi di imperfezione lo stoicismo accoglie pienamente il mutamento incessante che avviene in natura ma in ogni istante questo mutamento possiede la pienezza della perfezione perché la natura intera è abitata da una razionalità, da un logos questo logos non abita come dire un mondo trascendente, la realtà ideale di Platone questo logos è immanente al mondo fisico, è interno ad essa di cui anche sul piano morale per gli stoici si tratta appunto di conformarsi a quanto avviene in natura vivere secondo natura è uno dei loro detti e questo principio del saggio stoico vale anche in fondo per il saggio confuciano che mira appunto ad aderire in modo spontaneo alla regolarità del corso naturale l'uomo non deve cercare di imporre i propri desideri a ciò che accade in natura e che risulta indipendente dalle sue possibilità ma deve assumere un punto di vista che gli permetta di accordarsi appunto al processo del mondo senza contrastarlo, senza doversi scontrare frontalmente con la necessità delle cose non si tratta tanto nella tradizione confuciana di accettare qualcosa come dire che si subisce contro voglia non si tratta di rassegnarsi non è il così sia della tradizione cristiana semmai è un sia così cioè si esprime il proprio assenso all'armonia alla coerenza che regola il processo naturale così nel confucianesimo la cosmologia e l'etica restano indissociabili si definiscono mutuamente perché appunto adeguarsi all'ordine del mondo e realizzare la virtù significa mantenersi in sintonia con il processo naturale questo lascia l'impressione in occidente come dirà anche Hegel che il pensiero cinese sia rimasto all'infanzia della filosofia non ha saputo distinguere la natura dalla cultura ciò che dipende appunto dal cielo come avrebbe detto Kant rispetto alla legge morale il pensiero cinese non ha rotto quell'unità fra il cosmo e la morale che invece l'occidente ha rotto e da cui forse è nata anche la coscienza infelice per usare un termine hegeliano che dell'occidente è propria per il confuciano l'uomo deve manifestare le virtù del cielo che sono la perseveranza la vigilanza deve trionfare sulle proprie debolezze deve anche manifestare le virtù della terra cioè la capacità di conformarsi per adeguarsi appunto alla logica del processo in tal senso nella tradizione confuciana non troviamo quella distinzione tra il sacro e il profano che anche qui è propria dell'occidente non c'è un piano autonomo della religione la religione non rimanda a un legame con un al di là trascendente servire i genitori dice la tradizione confuciana è già servire il cielo non vi è dunque un piano distinto e dunque non vi è neanche bisogno di un'incarnazione come quella di Cristo cioè di una mediazione fra il terreno e il celeste non c'è bisogno di angeli, santi o sacerdoti che agiscano appunto da mediazione tra i due monti il saggio confuciano incarna già in sé il divino nella misura in cui corrisponde alla totalità del processo e si mantiene aperto e disponibile grazie al vuoto che crea in sé stesso questo ci porta ad un altro aspetto in cui emerge con forza il contrasto tra la tradizione cinese e la nostra occidentale in processo creazione seguendo François Julien abbiamo osservato come il processo sia regolato da una coerenza interna in cinese è il Li L-I e questa coerenza interna del processo è pensata sempre in relazione a una energia universale in cinese è chiamata Qi Q-I questo vuol dire che in ogni situazione vi è già una tendenza spontanea una propensione a devolvere in un determinato senso c'è una potenzialità e dunque il saggio dovrà porsi nella posizione che gli consenta appunto di sviluppare di sfruttare le potenzialità latenti già implicite nella situazione perché in tal modo potrà trarne il massimo dell'efficacia e questo è evidente in particolare nell'arte militare François Julien se ne è occupato in questo libro il trattato dell'efficacia edito da Inaudi nel 98 da me tradotto in cui appunto metteva a confronto l'arte militare cinese c'è un famoso testo di Sun Tzu che affronta appunto questo tema con invece la tradizione diciamo teorica dell'Occidente ecco Sun Tzu sottolinea come l'arte militare consista nel saper volgere a proprio vantaggio l'inclinazione già latente nel corso delle cose non si tratta di forzare la situazione non si tratta di contrastarla Sun Tzu ricorre all'immagine delle pietre rotonde che quando la configurazione del terreno consente loro grazie al pendio hanno già in sé spontaneamente la propensione a rotolare lungo la discesa dunque il generale chiede la vittoria non all'eroismo delle sue truppe ma al potenziale della situazione ne emerge appunto un contrasto a proposito del pensiero dell'efficacia tra la Cina confuciana e la cultura dell'occidente a partire dai greci da essi l'efficacia è pensata a partire da forme ideali che sono edificate come dei modelli che vanno poi proiettati sul mondo è quella che potremmo chiamare in un certo senso una cultura del progetto come in fondo vediamo anche nella Repubblica Platonica l'elaborazione la costruzione di un piano ideale perché ci possa essere una comunità una politeia in cui trionfi finalmente la giustizia e poi la prospettiva è fare in modo che questo piano trovi attuazione appunto nella realtà concreta questo vuol dire fare affidamento alla volontà questo vuol dire escogitare dei mezzi per intervenire sulla situazione e farla corrispondere al modello ideale che è stato elaborato la Cina al contrario non mira a far dipendere tutto dall'iniziativa del soggetto dal suo progetto teorico ci invita invece a scorgere nella situazione il potenziale Julian parla appunto di un potenziale di situazione da cui poi lasciarsi semplicemente portare l'effetto che si ottiene non è qualcosa che abbiamo direttamente di mira qualcosa a cui tendere ma è quanto è già implicito è semplicemente una conseguenza da raccogliere si tratta di lasciar risultare quel che appunto è già implicito nella situazione Julian dice che l'intelligenza cinese è un'intelligenza strategica ben diversa da quella che appunto abbiamo appreso dai greci anche nella figura del demiurgo platonico che con gli occhi rivolti verso l'alto assume a modello le forme ideali che cerca poi di realizzare nel mondo materiale questa immagine del demiurgo che ha dei modelli ideali di riferimento è quella che poi è stata estesa sia all'ambito della produzione diciamo tecnica e artistica in greco l'ambito della poesis sia all'ambito dell'azione della praxi e l'abilità in questa prospettiva sta nell'escogitare i mezzi più efficaci per conseguire il fine che ci si è proposti magari ricorrendo anche a quell'intelligenza astuta che i greci esaltano nella figura di Ulisse il polumetis metis è appunto l'intelligenza astuta ecco l'esempio potremmo dire ricorrente di azione efficace è costituito dalla guerra dove si tratta appunto di conseguire una vittoria quindi di raggiungere un fine un telos e l'azione è efficace se appunto il fine viene raggiunto magari nel modo più efficiente cioè utilizzando i mezzi più adeguati per quel fine nell'occidente c'è il testo canonico di von Clausewitz nei primi decenni dell'ottocento dedicato appunto all'arte della guerra in cui von Clausewitz dice appunto che la guerra va condotta secondo un piano prestabilito in partenza in cui sono già fissate le azioni per conseguire l'obiettivo anche lui però è costretto ad ammettere che in molti casi le cose avvengono ben diversamente da quanto si era pensato all'inizio nella prospettiva teorica il pensiero cinese invece non punta a costruire un modello che sia diciamo così la norma il piano d'azione e che indichi lo scopo da conseguire il saggio cinese si concentra sul corso delle cose sulla coerenza del processo cerca di far leva sul potenziale della situazione si lascia portare dalle propensioni cioè quelle tendenze che sono già interne al processo un termine che poi in occidente riprenderà Leibniz all'inizio del 1700 quindi quello che conta nella prospettiva dell'efficacia cinese non è tanto il nostro investimento personale lo sforzo di volontà che chiediamo ai soldati ma si tratta di trarre partito dall'andamento stesso del processo quindi l'effetto non si consegue in base ad azioni che mettono in pratica un progetto ma si consegue grazie ad una logica di svolgimento per la quale l'effetto è già implicito nel potenziale della situazione e dunque si giunge all'effetto da sé sponte sua e questo vale per il generale come per il consigliere di corte vale anche per il sovrano dicono testi della tradizione confuciana anche il sovrano può governare senza sforzo facendo semplicemente in modo che siano gli altri a concorrere alla sua posizione di forza magari lasciandoli all'oscuro su di sé ma tenendoli sotto reciproca sorveglianza dunque lo stratega cinese il generale ma ripeto anche il politico ma ricordiamoci sempre che la funzione del politico e anche del letterato è al più quella di un consigliere di corte di fatto sottomesso a un principe autoritario dicevo lo stratega cinese comincia non tanto formulando un progetto ma valutando i fattori che sono presenti nella situazione e cercando di capire come possano essere sfruttati per far sì che la vittoria poi risulti da sé cioè quali sono le condizioni che conducono all'effetto noi siamo portati a pensare la guerra secondo una vecchia metafora come ad un gioco in cui ci sono le regole poi interviene il caso la fortuna ma questa componente per la cultura dello stratega cinese questa componente aleatoria in qualche modo va messa da parte come dice Sun Tzu le truppe vittoriose cominciano col vincere e cercano in seguito di attaccare battaglia cioè se il generale ha colto correttamente l'inclinazione iniziale del processo e la sa sfruttare la vittoria verrà alla fine da sé questo ha un'implicazione molto importante perché da noi in occidente si è assegnato un ruolo fondamentale all'azione l'occidente ha sviluppato il mito dell'azione del gesto creatore all'origine del mondo ma anche delle gesta dell'epopea pensiamo ai personaggi soprattutto dell'Iliade ed è un mito che la Cina non conosce proprio perché la Cina pensa in termini di processo una continua trasformazione impersonale e quello che conta non è dunque l'agire in prima persona con un atto volontario quello che conta nella tradizione cinese non è l'azione ma la trasformazione cioè qualcosa di trans individuale e la cui efficacia è indiretta per noi l'efficacia si deve ad un intervento arrischiato all'audacia che risponde all'imprevedibilità delle cose è un tema che ritroviamo anche in Machiavelli per la Cina l'azione rischia sempre invece di intervenire in modo arbitrario sul corso delle cose rischia di turbarne della coerenza e quindi suscita l'azione necessariamente delle resistenze quanto più un'azione anzi si mette in rilievo suscita scalpore si presenta come qualcosa di spettacolare ecco tanto meno appresa sulla realtà il saggio non proclama di agire semplicemente trasforma e si trasforma si affida alla durata il saggio fa accadere senza far pressione sulla situazione e senza sforzo l'effetto ne risulta così diffuso e tanto più ampio quanto più la trasformazione passa inavvertita le vere rivoluzioni ci dice la tradizione cinese sono quelle che avvengono attraverso trasformazioni silenziosi che non si possono neanche attribuire ad un soggetto che non sono pienamente localizzabili l'efficacia tanto più è grande quanto più è discreta come appunto accade per il vento il cui effetti si scorgono soltanto nel moto delle foglie o per l'acqua che scava lentamente il letto del fiume o addirittura si apre un cammino nelle pietre da noi come dicevo prima l'occasione scusate l'azione è stretta fra la volontà di un soggetto e il ruolo del caso la fortuna come avrebbe detto appunto Machiavelli e qualche volta si è introdotto anche il riferimento al kairosse l'occasione il momento favorevole quello in cui inserirsi nel corso delle cose per sfruttarle però per la Cina questa occasione non è un'opportunità che si offre per un fortunato concorso di circostanze è il momento adatto per intervenire nel processo dietro l'occasione che per noi il kairosse sorge in modo imprevisto dietro l'occasione la saggezza confuciana viede invece l'innesco il punto di partenza di un processo che ha già preso un'inclinazione che possa condurre a ottenere il risultato come dice anche qui la tradizione confuciana il potenziale di situazione è come tendere la balestra e il momento opportuno è come farne scattare il meccanismo quindi il saggio si attende l'efficacia dalle dalle trasformazioni che già operano silenziosamente ci sarà un libro di julienne dal titolo appunto le trasformazioni silenziose e magari avremo modo di parlarne perché appunto nell'occasione il saggio confuciano scorge soltanto l'emergere di ciò che poi diventerà visibile soltanto più avanti nella durata il kairos della tradizione greca è raffigurato come una divinità sempre in moto che avanza volando o in punta di piedi con una ciocca sulla fronte che va afferrata quando si avvicina ma non ha più capelli sul cranio perché una volta che è passata non si può più prendere mentre lo stratega cinese in qualche modo ha già predisposto il terreno perché quel momento propizio possa essere sfruttato e proprio perché non c'è un'esaltazione dell'azione la strategia cinese si disinteressa anche dell'eroismo della gloria prende le distanze da tutto ciò che diventa spettacolare del bravo stratega del bravo generale come del saggio non c'è nulla da dire di qui la famosa formula dell'ao zi che dice non fare niente e che niente non sia fatto che sembra una sorta di elogio della passività del non agire un rifiuto dell'impegno in realtà secondo la tradizione confuciana se ci si trattiene dall'agire è per lasciare accadere cioè per fare in modo che la trasformazione implicata nel processo si produca da sé senza che ci sia un'azione diretta forzata e arrischiata non si tratta di non voler ottenere un effetto ma si è convinti di poter giungere al risultato una volta che si è dato il giusto innesco alle cose l'immagine più pertinente anche qui è quella della crescita delle piante secondo una famosa formula del mencio quando appunto si dice che non bisogna tirare i germogli per farli crescere nemmeno però bisogna tralasciare di sarchiare la terra per farli poi spuntare si tratta dunque anche di sviluppare quella capacità di attendere di cogliere il momento opportuno per la Cina l'effetto spettacolare è di scarso effetto resta epidermico non si fonde con la realtà genera poi reazioni antagonistiche allo stesso modo non bisogna mettersi in avanti porsi in primo piano mettersi in vista perché questo suscita innegabilmente delle rivalità come scrive il Lao Tzu se ci si esibisce non si brilla dunque non si tratta di volere esercitando una pressione sulle cose ma di lasciare che i nostri fini si iscrivano nella traiettoria del processo non c'è dunque un'esaltazione della volontà che in parte anche il pensiero greco non ha pienamente sviluppato il saggio cinese lo stratega sanno che bisogna passare attraverso un processo per conseguire l'effetto e il massimo dell'arte militare come abbiamo detto è far cedere il nemico ancora prima di combattere fare in modo che la sua situazione sia già quella di chi è sconfitto in partenza anche qui questa fiducia nella capacità delle trasformazioni lente trova la sua immagine più adeguata come dice il Lao Tzu nell'acqua l'acqua è ciò che più si avvicina alla via al Tao fluida flessibile senza forma indifferenziata neutra come il fondo del processo naturale ma come è scritto nell'Ao Tzu niente al mondo è più molle e debole dell'acqua ma nell'avventarsi contro ciò che è duro o forte niente può superarla l'acqua se il dislivello la pendenza la propensione il potenziale di situazione se tutto questo è a favore se l'inclinazione è adeguata l'acqua riesce a trascinare le pietre che sono dure e pesanti solo in forza della sua disposizione e l'acqua in qualche modo come il saggio non ha forma ma si conforma e procede adattandosi grazie alla prossima volta